Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati su Astral Chain Nello scorso episodio dopo essere tornati dalla dimensione astrale E aver salvato una ragazza che era sparita Adesso siamo tornati nella nostra dimensione con un bel po' di casino E stiamo cercando in tutta questa confusione generale di salvare e trovare Akira Adesso io devo trovare un per... ah scendi così Giù Che cattiveria oh Nooo poverino non ce l'ha fatta Ah E a quanto pare tu sei diventato un abominio A quanto di loro è meglio non utilizzare La spada Grande Io la chiamo spada però Questo qua è il manganello L'altro è una pistola L'altro come lo chiamate Fatemelo sapere nei commenti a sto punto In questa confusione generale I civili stanno cercando Un luogo di riparo E Di qua non posso passare a quanto pare Akira non sta da questa parte qua Sembra che la situazione si sia un po' tranquillizzata Madonna ho preso un colpo Pensavo fossero dei nemici Vedo che scappate tutti Quindi intuisco che il pericolo sta di qua Ok croce direi di si E Akira se non arrivavo io Mi sa che qua ci lasciavi le pende Ma vedrai che con me sarà tutto più facile O meglio con il legion Che è Fondamentale Senza il legion non saremo nessuno Macchina Te la sei data a gambe Ma dammi una mano Sei lì Boh vabbè È lì che avevi preso fuoco Vabbè Ah È arrivato qualcun altro qui eh Vabbè ma questi sono facili Ah bene ho preso la scossa Akira puoi darmi una mano Ah sì bene Li stai Sì ma non con la pistola Perché con la pistola Hai due manganellate vanno giù Questi ce ne vogliono un po' di più di manganellate Ma vanno giù comunque Che collega pessima E tu dove credi di andare Sarebbe stato bello se l'avessi gettato nel fuoco Però Si chiama squadra di gemelli La battaglia Ma Mi sembrava A solo del gemello I told you I could have dealt with that myself Why do you have to To play hero like that I'm dad's kid Just like you are I don't need any help Killing chimeras I don't even need a legion To hide behind I'll show you If I can't take a chimera myself What's the point of even living Wait No way You saw Oculus Legion? What was it doing there? First things first What are you doing? Follow them We can't find our reach And the level of the grid That are all throughout the world Okay Looks like you're in So far So good I'm honing in on Okibus position Fin qui Tutto bene Avete potuto notare Come Akira Si sia potuta Sfogare su di noi Ok Dobbiamo trovare A quanto pare Il Legion Arco Che ha rapito Akira Però Akira Ha fatto una Un'analisi interessante O meglio Che senso ha a vivere Se non riesco neanche A cavarmela da solo Contro le chimere Io prima era abbastanza Sul L'ho buttato un po' sul reader Sul fatto che Akira A fatica Riusciva a buttare giù le chimere Però Insomma Si sta cercando Di responsabilizzare Dopo Quello che è successo Soprattutto Al loro padre Di diventare Autonoma E responsabile E che Ha visto Come un po' di Sfrontatezza E di Superiorità Il nostro gesto Di Cercare Di salvarla O meglio Più che di salvarla Di aiutarla Per ora Questi non dovrebbero essere Assolutamente Un grosso problema Ci stiamo facendo Largo Verso La battaglia Contro Il legion Che ha rapito Akira E Cercheremo Prima di tutto Di salvarla E poi Chi lo sa Qui Buongiorno Per La battaglia E Come vi dicevo le parti platforming si stanno via via sempre più facendo interessanti dal punto di vista della loro struttura e della complessità. Ci fanno usare diverse meccaniche come ad esempio io adesso avrei dovuto utilizzare il fendente con un certo tempismo. Ma a quanto pare sono crepato male. Ok ce l'abbiamo fatta abbiamo intravisto un Akira stordita ed eccolo qui il Nemesis Arco. In sottofondo parte una soundtrack che mi piace particolarmente. Ok non si riesce a vedere che grado di scala Calvert sei. Voglio semplicemente abbatterti però se ti nascondi non vale. Se ti nascondi non vale no maledetto tu sia che metti queste cose qua che sono solo che fastidiose. Solo per fare solo per fare il tuo attacco con con l'arco maledetto tu sia. Allora dove sei andato a cacciarti? Dove sei? Ah sei là sopra. Dove diavolo sei? Ah sei qui? Ah ecco pensavo fosse là sopra. Infatti mi sembra un po' strano. Allora sei un nemico abbastanza veloce. Però io voglio farti tanti danni. Voglio farti tanta bua. E metti il capito il prima possibile. Caro. Il mio Nemesis Arco. Dove sei? Ah lì bene. No questa cosa qua. Ah! Ti ho fregato. IQ caro mio. Dai che manca poco. E via di incatenamento. Si torna a cuccia bello. Abbiamo acquisito il nostro secondo legion. Ce la siamo cavata anche abbastanza bene. Abbastanza rapida come battaglia. Sì. Sì. Esattamente è un po'... Un po' distante. E adesso ci spiegano alcune delle potenzialità di questo legion. Grazie. Grazie. Grazie a la posizione di Akira. I'm checking the data from your scanner Phew, Akira's only passed out At least we don't have to worry about corruption yet Your chopper's already on its way You'd better get back here quick Oh, good, the alarm stopped Seeing how the Aero Legion was setting it off, I guess that's a given Hey! A quanto pare Akira ha ritrovato il gattino che... Che gli era scappato nel... Fin da quando siamo atterrati a Forest Mansion Oh, yeah... Thank God You're all okay If I lost you guys too I don't know what I'd do Dad used to come here and take care of these cats If it weren't for him, anything could have happened to them Rules are rules, even for the captain No straight animals are allowed in HQ And he couldn't bring them home because he couldn't risk us getting infected I guess he thought if he kept them here He could come by to check on them while he was out on patrol I followed him here one day And that's how I found out He told me I could help out But I had to keep it a secret from everyone else That meant you Dad really wanted to save the world The whole world Not just the humans Even these poor little guys He really was an incredible person And he was... He was so kind to us too I know he wasn't thrilled about us following in his footsteps He was so afraid we'd get hurt But I never imagined it'd turn out like this Hello? Come on You've got to at least give me a heads up before you run off somewhere You guys do know why I can have them dock your pay if you don't listen to me, right? Abbiamo notato prima un'Akira che si era un po' demoralizzata Si è tranquillizzata Dopo... Non voglio dire la scenata, ma... L'arrabbiatura con noi Gli è passata molto velocemente Non solo per il fatto che l'abbiamo salvata, ma... Perché ha capito la situazione qual era E si è lasciata un po' andare Alla... Alla debolezza che porta dentro Riguardante alla... Alla perdita del padre Che la segnerà molto Perché... Chiunque sarebbe segnato da... Una disgrazia simile This is Akira My radio must have gotten switched off And all the chaos over here Sorry to worry you We're on our way back to HQ Akira, you've got to be more careful Ok, hurry on back We're waiting for you Yup, roger This stays between us, ok? Not a word to anyone Especially not Marie You can spare me the details I saw everything from here I didn't expect we'd ever see the Lost Legions again Much less like this A sudden attack And then core fusion It's breathtaking We've got a tremendous amount of new data to consider And it's all thanks to you Legionis You've got both sword and arrow legions registered in your Legatus now Ci ha chiamati Legionis E non... Se vogliamo... Membro... Neuron Non solo per la nostra capacità innata Che abbiamo visto negli scorsi episodi Di controllare il Legion Ma anche Il modo in cui siamo riusciti anche a mettere due Legion All'interno Dello stesso Legatus E ciò Ha scoinvolto Sia Iosef Che tutto Anche il centro neuron Perché appunto Nessuno pensava A questa possibilità Che siamo riusciti a tenere sia il Legion spada Che quello arco It seems you can wield both interchangeably If you find the other three You should be able to use them as well Seize the opportunity Should it present itself That is all You may return to your duties E termina così Il terzo capitolo Di Astral Chain Il capitolo legame Completato con un rango A Abbiamo anche ampliato qualche aspetto Relativo alla lore Soprattutto Ad Akira Abbiamo conosciuto Uno strano Drone giallo E soprattutto Ci siamo impossessati Del Legion arco Spero che questa serie Vi stia piacendo E che la continuiate A seguire con passione E noi ci vediamo Detto questo A un prossimo video Ciao ragazzi 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 Grazie a tutti.